Danni a manufatti, a linee elettriche, telefoniche, allagamenti, come è accaduto in un negozio di articoli sportivi a Fano e purtroppo anche un morto nella città feltresca. Sono questi i danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. Il forte vento ha battuto centinaia di alberi in tutta la provincia di Pesoreo Rubino e fra questi anche la famosa Quercia del Tre, una roverella ultrasecolare censita fra le formazioni vegetali monumentali delle Marche. A Persagnoli di Mercatello sul Metauro la Quercia era parte del paesaggio da sempre. Alta 24 metri con un tronco, largo quasi 5, aveva resistito nei secoli a tutte le intemperie, compresi vari fulmini. Il corpo forestale dello Stato che sta monitorando i danni riscontrati nell'intero territorio ha sottolineato come la Quercia del Tre fosse un forte elemento identitario per la popolazione del posto, ma il maltempo di questo inizio marzo l'ha sradicata. L'elenco dei danni, dicono gli agenti, purtroppo è lunghissimo e comprende alberi isolati, molti dei quali in ambito urbano, gruppi arborei e persino boschi. D'altra parte proseguono ancora anche gli interventi per la rimozione di piante e alberi abbattuti. Ieri è stato eseguito un intervento congiunto tra la provincia e i vigili del fuoco di Pesaro per mettere in sicurezza la strada provinciale 45 e il torrente Arzilla, con la rimozione di alcuni grossi pioppi pericolanti. Gli alberi infatti minacciavano di abbattersi lungo la carreggiata e il torrente. A ringraziare i pompieri per la pronta collaborazione e il personale dell'ufficio rischio e pronto intervento idraulico è stato il presidente della provincia di Pesaro Urbino, Daniele Tagliolini. L'unione fa la forza, ha detto, in questo periodo di mancanza di risorse è ancora più importante lavorare insieme per la sicurezza dei cittadini e del territorio.